Salvucci Stefano, preparatore dei portieri di tutte le squadre, poi Kramer Gianluca, allenatore in seconda, Martelli Emiliano, direttore sportivo, Valeri Simone, collaboratore tecnico addetto agli arbitri, allenatore dell'Under-19 nazionale. Questa è la prima conferenza stampa di inizio stagione 2018-2019, poi ne seguirà un'altra orientativamente i primi giorni di settembre dove verranno presentati poi il resto dei giocatori. Questa conferenza stampa servirà per presentare in tutto lo staff tecnico della prima squadra, che come già ho citato sono questi quattro ragazzotti. Inoltre per precisare che abbiamo iniziato un tantino in ritardo perché come sapete abbiamo avuto qualche problema economico per la partenza del campionato, perché è un campionato nazionale dove andremo incontro a spese non indifferenti, quindi c'era bisogno di una programmazione di certezze più che altro. Quindi siamo partiti in tantino in ritardo, però adesso abbiamo recuperato il tempo perduto e oggi, oltre alla presentazione, come ho già detto dello staff tecnico, avremo l'onore e l'onere di presentare i giocatori che il sottoscritto, insieme ai miei collaboratori, abbiamo deciso di tenere della passata stagione del campionato vinto di Serie C1. Comunque un grazie anche a loro che hanno accettato di rimanere, perché poi il matrimonio si fa in due e poi li presenteremo. Questo è un po' il cappello che vi faccio di questa conferenza stampa. Perché? Perché comunque avremo bisogno di avere un po' di professionalità, perché andremo a affrontare un campionato nazionale, quindi non è che staremo sempre in questo tavolo a dire tutto, avremo il servizio il sabato, però avremo la necessità di portare questo sport, di portare questa disciplina nelle testate giornalistiche, forse anche settimanalmente, insomma, in base alla vostra disponibilità, ai vostri ingastri, occhielli, come si chiamano? Quelli de spalla, poi... agli spazi, insomma, adesso faccio le battute perché sono così. Ecco, questo è un po' quello... Poi, per quanto riguarda, vedo un po' le notizie del campionato che andremo a affrontare, poi se avete qualche domanda, insomma, tranquillamente, diciamo che hanno perché la divisione caccia 5 di Roma ci ha innescato con un meccanismo ancora inspiegabile nel girone di Lazio e Sardegna, un'unica Umbra, siamo tre Umbre solo a noi, penso sia il motivo solamente geografico, cioè la squadra più vicina, la città più vicina a Lazio e ci hanno messo in un girone di ferro e poco perché da tempo, oltre che il Lazio è la patria del calcio a 5, dove è nato e dove comunque sviluppa un notevole movimento, proprio il tasso tecnico è altissimo. Ma questo, una volta ingoiato, tra virgolette, questo rospo perché non ce l'aspettavamo nessuno della società, me, i giocatori, nessuno. Molto probabilmente è stato fatto per dei capricci burocratici di alcune società che non volevano comunque avere la Sardegna, di regioni sotto a noi e quindi ecco, detto questo, ci siamo rinunciati. Una Umbra, due Sarde e nove Laziali, le due Sarde sono entrambi di Cagliari, quindi questo è l'unica, tra virgolette, cosa positiva. Detto questo, quindi andremo a affrontare questo girone che vi ho detto, prendiamo il tutto con entusiasmo, anche con i giocatori che abbiamo confermato perché sono tutti ragazzi, i confermati sono tutti diciamo del posto, di Foligno e abbiamo un ragazzo di bastardo, poi, che dopo andremo a presentare, poi successivamente arriveranno altri giocatori, possiamo anticipare che, l'unica cosa possiamo anticipare che arriverà un ragazzo dall'Argentina, con il doppio passaporto italiano-argentino, arriverà un ragazzo dal Giappone. Poi abbiamo preso anche un ragazzo marocchino che arriveranno successivamente perché stanno insomma in vacanza e sicuramente arriveranno un altro paio di giocatori, arriveranno a completare tutto. Mi presenteremo quando è ora, mi richiameremo se ci avete la volontà, la voglia di venire qua, magari, può essere un pochino più... Sì, io sono molto felice da parte del Foligno Caccia 5, come ha detto il mister, andremo a affrontare un campionato molto impegnativo, però con l'entusiasmo di tutti i ragazzi, compreso me, e niente, ci faremo trovare pronti per questa nuova avventura. Sì, purtroppo non ci ha detto bene con l'estrazione, con l'abbinamento, diciamo, del girone, però la società sta lavorando, quindi siamo confidenti in quello che sta facendo e già abbiamo un'impronta importante comunque già dall'anno scorso che abbiamo mantenuto e con qualche innesto speriamo insomma di riuscire a far bene nel giro naziale. Tre innesti che parlava appunto il mister era... Sì, sono tre innesti importanti, sì... Diciamo che danno un po' di qualità... Sì, alzano, dovrebbero, speriamo che alzino il livello della squadra, il tasso tecnico e dovrebbero essere comunque tre innesti di categoria, per forza. A te aspetta un po' anche il ruolo di raccordo tra vecchie e nuove? Sì, o è di tanto siamo quelli che insomma anche l'anno scorso abbiamo fatto questo tipo di lavoro, quindi saranno ragazzi comunque come noi, speriamo insomma che saranno veloci nell'inserirsi, sono giocatori che comunque hanno già giocato in Italia in campionati italiani, quindi non credo insomma ci saranno grossi problemi di inserimento. Grazie a tutti.